Musica 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 Senza né di allarmi Si attiviamo Ho fatto una via di fuga qua dietro il cespuglio Bello Mi sembra molto utile Minchia Qualcuno è sport di sangue Musica Ragazzi andiamo Eh c'è una macchina Musica Non so cosa ho fatto tantissimo Si è girato Ho capito che le guardie si muovono come zombie a volte Cioè lentissime con le mani davanti Che sono degli zombie Come sono? Sono delle guardie zombie Guardi c'è anche lo zombie mod Oh questo qua non si è andati male Siamo 9.970 Ah stiamo migliorando vedi Wow Eh certo 9 millesimi su quanti giocatori? 100.000 10.000 probabilmente No Dai io uso sempre il tizio Che mi piace O io provo No perchè Yota mi ha fottuto Mi ha fottuto Mi ha dato gli occhi Eh non sapevo che volevi la talpa Si può cambiare se volete No Non importa No no L'amico della talpa ha una nave Nave Bello Posso andare in giro nel mondo Perché non inizi? C'è una banca dall'altra parte della strada La rapiniamo con la barca No Dobbiamo rapinare la banca Così poi possiamo pagare Il tizio che ci porta via in barca Ok Ma se spari comunque non fai rumore Attiri da altri guardi Ehi Inferiarsi Freghiamo tutti Occhio Occhio a questi Aiuto No hanno chiamato le guardie No dobbiamo travestirci Stavolta le guardie siamo noi Non sarai così sicuro Cazzo a questa gente Le ho uccisi Hai fatto fuori? Uno si Ci si può travestire qua? Si Da guardia Dove sono io ci si può travestire Ma tu non hai l'elmetto Ho una maschera L'elmetto cos'è? Vedi? Tu hai la testa Non lo vedi? C'è qualcuno che piscia qua Io sto rompendo i muri Cos'è il tempo che c'ho sopra? Perché c'era con me quello che pisciava? Cosa sei Io rompio i muri Qui c'è? Io 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 E' addormentato tutti tranne uno A tempo ha spaccatutto Da da che arrivo? Qua avete già fatto fuori tutto? Si A parte il tizio si Allora camminiamo piano io provo a scendere tanto c'è una guardia ma c'è una macchina che non possiamo usarla computer ma qua conviene entrare dall'allarme vado io piano attenzione che esce qualcosa sa fuori col computer nella stanza del tipo c'è un po' girando ma c'è un poliziotto inquazzito è zombie ma c'è un po' guarda si muove lentamente quanti garaver ci sono qua cazzo no ho sbagliato mi sto portando via i cadaveri ho preso un po' di soldi da qua pensavo che mi sono portato dietro una guardia fantastico il lock mi sapere se era tu stiamo facendo collezione di cadaveri il tempo è troppo fico che può spaccare tutto crearsi via di fugo ovunque di qua oh ce ne sono altri i zombie ma sta guardia qua si seguendo ah qua si può scendere ciao 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 ciao